Non si sono ancora placate le polemiche politiche dopo la proposta di adesione del porto di Alghero all'autorità portuale di Olbia Golfo Aranci. Questa volta è Giancarlo Piras, capogruppo del PDL in Consiglio Comunale, che sottolinea come con le autorità portuali sarà più facile individuare strategie comune di sviluppo ed attuare un'organizzazione dei vari porti, evidenziando i ruoli e le funzioni di ogni singolo scalo, mettendo quindi a sistema l'intera portualità sarda. Piras poi attacca i colleghi di centrosinistra, sottolineando come dal 2003 il comune di Alghero esprime pareti negativi su concessioni di pontili a chiunque e di posizionamento giostre, ma la regione pare non sentire.